Si svolgerà invece dal 30 giugno all'8 luglio il Pisa Folk Festival e sono diversi i luoghi che ospiteranno gli eventi. Pisa Folk Festival edizione 2023, che festival sarà quest'anno? Sarà un festival fresco, nuovo, legato alla tradizione ma che guarda al futuro. Cinque incontri, cinque eventi, location diverse, 30 giugno, 8 luglio. Un'edizione come sempre basata su suoni e suggestioni provenienti in primis dal sud dell'Italia, col primo appuntamento incentrato su canti e pizziche da Salento, poi il 1 luglio un workshop intensivo di pizzica, quindi la novità a livello di location e il 2 luglio il festival si esposta nel chiostro della scuola normale di Pisa per un incontro letterario con Ilaria Gasperi e Marco Amerighi, quindi il clou. Il 7 e l'8 luglio torniamo al Giardino Scotto con due grandi concerti. Il 7 è un progetto speciale di Toscana Produzione e Musica, CRL, orchestra di Piazza Vittorio, Almaria, coro delle donne arabe con Ginevra di Marco, un concerto che parla di donne, di migrazioni, di integrazione. E poi la grande chiusura l'8 di luglio col maestro Beppe Barra, un'icona della musica campana napoletana e della World Music a livello mondiale. Per realizzare questo festival ci sono delle partnership molto importanti. L'associazione Pisa Folk che ha la sua ventunesima edizione del festival organizza ancora e si avvale di grandi collaborazioni fra cui Riccardo Pratesi alias Disegnacci che quest'anno ci ha fatto la copertina e grandi collaborazioni e patrocini come Fondazione Pisa, Comune Pisa e la scuola normale di Pisa.